Brugman sì, Brugman no. Baby Pillon sfoglia la margherita. Il capitano biancazzurro, toccato duro col Palermo, anche stamani ha lavorato in via differenziata. Sul suo impiego ad Ascoli si deciderà domani in extremis. In caso di forfetto, toccherà ad Alessandro Bruno. Probabile il ritorno al collaudato modulo 4-3-3. Davanti a Fiorillo aggiranno Balsano, Gravion, Scogna Emilio e Lex del Grosso. In mediana Crecco e Memusciai ai fianchi di Brugman o Bruno. In attacco, assente del sole per un problema alla caviglia, saranno il rientrante Marras a destra e Sottila a sinistra. Buono l'impatto col Palermo del giocatore in prestito dalla Fiorentina a sostenere l'azione del bomber Mancuso. Pillon, altro grande ex della gara, presenta così l'Ascoli di Vivarini. La formazione è composta da giocatori specialmente davanti, di grande qualità, tipo Ninkovic, Zinciretti, Ardemagni, che hanno delle qualità importanti nella fase offensiva. E' una squadra che secondo me sta facendo bene, al di là del risultato di Lecce, perché a Lecce giocare adesso è difficile per tutti. Sarà una partita molto tosta, questo è sicuro, perché il derby, tutte e due le squadre vogliono vincere, tutti e due vogliono andare avanti nella classifica, tutti e due hanno mille motivazioni, perciò è una partita molto sentita. Pillon torna poi sulle tensioni post-gara col Palermo, con le parole pronunciate a caldo dal presidente Sebastiani, che peraltro ha assistito agli ultimi due allenamenti con la squadra. I due si sono salutati, come sempre, ma non hanno avuto alcun chiarimento sulla vicenda. Pillon, tira dritto. Ci siamo salutati, come facciamo sempre, come tutto l'anno ci salutiamo, argomentiamo, parliamo della squadra, ma non abbiamo parlato di quello che è successo. Io dico la verità, non abbiamo parlato, perché non c'è niente da parlare. Quale era la fastidio di questa squadra? È una cosa passata ormai, guardiamo la partita che dobbiamo fare, perché se dobbiamo sempre stare qui a parlare di certe cose facciamo del male a Pescara e soprattutto alla squadra. Io credo che meno si parla, meglio è. Credo che in questo momento qui ci sia da concentrarsi esclusivamente sulla partita. Lo stesso Pillon più che mai in questo momento incassa la fiducia e l'affetto di buona parte della tifoseria. Sono molto contento del rapporto che ho con i miei tifosi, che apprezzano la stima e il lavoro che stiamo portando avanti, insieme al mio staff. Sapere che a fianco c'è la tifoseria, la società, i giocatori, insomma per me è una grande soddisfazione questa. Io i tifosi li ho sempre sentiti vicini da quando sono arrivato, dal primo momento, devo dirlo sinceramente questo. Cioè loro mi sono sempre stati vicini dalla prima partita che abbiamo fatto qui. Non li ho mai sentiti distanti da me, li ho sempre sentiti a mio fianco, perciò per me è molto importante questo. Vuol dire che il lavoro, la stima c'è.